ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in formato video dove io personalmente vi leggo i bocciardini in questa nuova serie di video tratterò l'argomento relativo alle malattie o patologie che purtroppo spesso affliggono molti di noi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace ai video che ti interessano attivare la campanellina e commentare con le tue esperienze personali in base ai farmaci principi attivi che assumi o malattie che stai combattendo in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute in questo video ti parlo della malattia o patologia acne l'acne è un'infiammazione dei follicoli pilosi bacei che si manifesta principalmente con la comparsa del cosiddetto brufolo prima si formano i comedoni i punti neri poi si formano le papule opustole brufoli e nei casi più gravi è possibile che evova in noduli o cisti le lesioni dell'acne si localizzano al volto collo torace e dorso pur non essendo un disturbo grave l'acne quando si verifica in forma severa può indurre cicatrici inestetiche e permanenti sia l'acne sia le cicatrici derivate possono influenzare in modo negativo la psiche che cos'è l'acne l'acne si distingue principalmente in acne giovanile o adolescenziale e in acne tarda o tardiva cioè post adolescenziale o dell'adulto l'acne giovanile che compare al momento dello sviluppo sessuale può guarire dopo questo periodo o perdurare nell'adulto l'acne tarda o tardiva compare nell'adulto anche senza aver sofferto di acne giovanile dal punto di vista clinico si parla di acne comedonica cistica conglobata eccetera a seconda che prevalgano comedoni cisti eccetera quali sono le cause dell'acne la comparsa degli ormoni nel periodo dell'adolescenza causa l'aumento di volume delle ghiandole sebacee e l'inizio della produzione del sebo il sebo è una secrezione oleosa che serve a proteggere la cute dalle infezioni in alcuni soggetti maggiormente predisposti il sebo svolge un'azione irritante e induce la formazione del comedone o punto nero il comedone è come un tappo che impedisce lo scorrimento del sebo dalla ghiandola alla superficie della cute i grassi che compongono il sebo ristagnando si degradano e diventano irritanti si sviluppano in eccesso i batteri infine può avvenire una distruzione del follicolo con la formazione della relativa cicatrice la causa più importante dell'insorgenza dell'acne è la familiarità cioè una predisposizione specifica a sviluppare questo disturbo intervengono poi fattori esterni come l'igiene l'inquinamento ambientale i disordini di alimentazione e soprattutto lo stress lo stress può far peggiorare l'acne ed il peggioramento dell'acne può provocare stress si crea così un circolo vizioso al contrario di quanto si crede comunemente alimenti molto grassi quali cioccolato insaccati formaggi non creano l'acne tuttavia un'alimentazione troppo calorica soprattutto negli adolescenti può far peggiorare un'acne già in atto oltre a far aumentare il peso un altro comportamento che si vede spesso ed è basato su un concetto sbagliato il paziente con acne cerca di lavarsi con frequenza spesso con molto sapone nel tentativo di asciugare la cute seborroica e acneica purtroppo facendo questo aumenta la secrezione di sebo e l'irritazione quindi peggiora l'acne quando si ha l'acne occorre lavarsi poco non strofinare ed utilizzare poco sapone nei casi con molta infiammazione poi il sapone va sostituito con una crema da lavaggio infine lo schiacciamento dei punti neri o dei foruncoli provoca una diffusione dell'infiammazione quindi aumenta la possibilità di formazione di cicatrici anche la pulizia del volto dall'estetista che tenta di togliere i punti neri è da evitare per gli stessi motivi quali sono i sintomi dell'acne la comparsa di comedoni o punti neri di foruncoli di cisti e di noduli su viso collo petto e schiena normalmente non si tratta di una patologia grave ma nei casi più seri per evitare la comparsa di cicatrici e segni permanenti è bene rivolgersi ad uno specialista di dermatologia diagnosi la diagnosi è di tipo clinico e dal dermatologo spetta individuare le concause e indagare sui comportamenti sbagliati al fine poi di consigliare il trattamento più adatto alle esigenze del singolo paziente trattamenti un tempo si pensava che l'acne fosse una malattia causata di batteri presenti nel follicolo teoria batterica capaci di produrre acidi grassi dotati di attività infiammatoria in realtà studi più recenti hanno dimostrato che i batteri svolgono un ruolo secondario nell'acne e quindi il trattamento con antibiotici non è più indicato inoltre gli antibiotici che si usavano per l'acne erano spesso poco tollerati dal fegato e reagivano con la luce del sole fototossicità la cura moderna dell'acne non prevede l'uso di antibiotici nemmeno per applicazione locale alle ragazze o alle donne che hanno l'acne viene spesso prescritta la pillola contraccettiva semplice o con aggiunta di antiandrogeni questo comportamento terapeutico deriva dalla falsa premessa che l'acne sia causata da una disfunzione degli ormoni sessuali in realtà le adolescenti o le donne con acne non hanno affatto disfunzioni ormonali l'impiego della pillola contraccettiva per la cura dell'acne oltre a non produrre un significativo miglioramento espone ai rischi dell'uso di estrogeni e antiandrogeni fra i quali vi sono aumento di peso comparsa di cellulite ipertensione alterazioni del fegato pericolo di trombosi per questi motivi non si dovrebbe usare la pillola anticoncezionale nella cura dell'acne femminile viene definita come pillola anti acne una pillola a base di acido retinoico un derivato della vitamina a che agisce impedendo la formazione dei comedoni e delle cisti che sono alla base dello sviluppo dell'acne l'acido retinoico è quindi un trattamento specifico ed efficace che ha tuttavia molti effetti collaterali tra i più comuni secchezza cutanea e degli occhi mal di testa aumento del colesterolo calcificazioni e depressione psichica inoltre questo farmaco in caso di gravidanza può indurre gravi malformazioni fetali per questo l'impiego di acido retinoico per via orale è circoscritto ad alcuni casi particolari l'acido retinoico funziona anche se applicato direttamente sulla cute acneica evitando così i problemi di tossicità del farmaco assunto per bocca tuttavia data la sua potente attività si applica di solito una sola volta alla settimana e va integrato con il micro peeling il micro peeling consiste nel frizionare le zone interessate dall'acne con la lozione glico alcolica composta da acido glicoloico e acido salicilico a bassa concentrazione questa lozione disinfetta e aumenta l'azione desquamante liberando i follicoli dai comedoni e quindi nel tempo spegnendo l'acne poiché la tecnica del micro peeling non comporta l'uso di farmaci il trattamento può essere fatto da tutti e protratto anche per anni cioè fino a che l'acne non regredisce spontaneamente in accoppata con il micro peeling nei casi più seri funziona bene la terapia fotodinamica una moderna forma di trattamento mediante la luce utile per ridurre l'infiammazione nelle forme maggiormente infiammate e permettere di continuare con il micro peeling prevenzione se si è predisposti all'acne occorre evitare di applicare creme sul volto comprese quelle solari non utilizzare trucchi in crema come i fondotinta ma trucchi minerali struccarsi con creme da ladaggio e non con latte detergente evitare di schiacciare i punti neri ed evitare la pulizia del volto evitare le forti esposizioni al sole e le lampade uv una volta che l'acne è scomparsa è possibile continuare un trattamento micro peeling discontinuato per evitare che si formino nuovamente i foruncoli fonte informazioni rilevate dal sito humanitas punto it grazie per avermi seguito fino a qui spero che la farmamax ti sia stata utile iscriviti al canale e sarà informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo alla prossima patologia esaminata